Che tu sia un riparatore della domenica o un tecnico professionista, l'utilizzo di attrezzi da lavoro efficienti è indispensabile per eseguire un disassemblaggio perfetto e senza intoppi. Uno su tutti è l'avvitatore, uno strumento essenziale per chi ha le prese con la riparazione di prodotti tecnologici come smartphone, tablet, fotocamere e così via. Il WowStick 1FS prodotto da Xiaomi viene spedito all'interno di una confezione in plastica rigida con chiusura magnetica, utile per il trasporto o per riporlo quando non utilizzato. Si tratta di un cacciavite elettrico particolarmente adatto a lavori di precisione, in grado di avvitare e svitare senza problemi la maggior parte delle viti presenti nei dispositivi più disparati. Ha un peso di circa 47 grammi al netto delle batterie, è completamente realizzato in alluminio e le sue forme ricordano quelle di una penna. Viene venduto insieme a un set da 18 punti intercambiabili in acciaio, che vanno agganciate alla sua estremità. Quest'ultima presenta una forma sottile e allungata, in grado di arrivare anche alle viti situate nei fori più profondi. Sulla stessa è integrata una luce LED utile ad illuminare l'area di lavoro. L'avvitatore viene alimentato da due batterie mini stilo AAA, in grado di garantire fino a 8 ore di lavoro continuo o fino a 180 giorni di stand-by.